Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, è arrivato direttamente da Shenzhen un postino con questa scatola nelle mani. È arrivato in bicicletta, era un po' affaticato. Vediamo quello che c'è dentro. Il marchio dovreste averlo riconosciuto. One plus. Allora, adesso vediamo quello che c'è dentro anche la scatola che il postino ha portato. Intanto una bellissima reviewer's guide che ci dà tutte le informazioni sul nuovo OnePlus 5. Guardate, sono scritte qua. 6,01 full optic AMOLED display con ratio 18.9. Dual camera system con 16 megapixel di camera principale supportato da una camera secondaria da 20 megapixel. E poi ancora ricognizione facciale avanzata. Dash charge in mezz'ora la carica necessaria per un mese. E poi ancora il sensore per le impronte digitali in ceramica. Un processore octa-core fino a 2,45 GHz che è uno Snapdragon 835. E poi 8 GB di RAM, 128 GB di storage. Oxygen OS 4.7 che tra l'altro vuol dire che a bordo c'è ancora Android 7. Dettagli sul display, su come si comporta il display quando è direttamente alla luce del sole, quando un algoritmo essenzialmente aiuta il telefono ad avere una visuale ancora migliore, cioè scusate una leggibilità ancora migliore. E poi guardate, foto migliori quando la luce è poca, una modalità ritratto per lo scatto, il riconoscimento facciale per lo sblocco, la modalità pro per l'utilizzo della fotocamera e poi ancora il dash charge. Non solo indicazioni su quanto smooth è la performance e poi anche alcuni dettagli invece su quello che è la personalizzazione di Android. E qui insomma tutte essenzialmente le indicazioni su come poter fare una recensione del telefono. Dentro la scatola poi una cover rossa, molto bella, una cover in legno, una cover in bambù, una cover quella di diciamo Kevlar e ancora una cover sempre in silicone nera, una più bella dell'altra. E poi c'è questa scatoletta qua che adesso andiamo a togliere dalla confezione, eccola. Allora, prendiamo questa bellissima scatola nera che io conservo sempre con molta attenzione, quasi religiosità e vi mostro a questo punto invece quello che c'è dentro la scatola. E dentro la scatola aprendo, ecco, OnePlus 5T in tutto il suo splendore. Vediamo se riuscirò mai a levarlo da questa confezione, in realtà io l'avevo già fatto. Quindi è per quello che non c'è l'adesivo che aiuta a sollevarlo. E qui abbiamo il OnePlus 5T. Dunque una linea pulitissima, un lato tra l'altro vedete con semplicemente il volume rocker, poi il pulsante a cui noi siamo abituati, questo che è quello che serve essenzialmente per attivare o disattivare le suonerie, doppia fotocamera sulla parte posteriore, sensore delle impronte digitali che è stato posizionato qui esattamente al centro. Su questo lato il pulsante di accensione e poi vi mostro anche il cassettino per le SIM e sulla parte frontale, vedete, abbiamo il display a 18,9, 6,01 pollici. Sulla parte inferiore attacco per le cuffie, oh che meraviglia vederlo ancora lì, USB Type-C e poi altoparlante. Torneremo sul telefono con una serie di confronti, lo faremo esattamente il giorno 21 di novembre. Cosa c'è dentro alla confezione? Una buona notizia per chi era lì per comprare una cover perché ce n'è una anche in silicone trasparente o TPU forse questo materiale, non mi ricordo mai come si chiama, all'interno della confezione di vendita, quindi già questo è un dato molto positivo per gli utenti. e poi caricabatterie Dash Charge con il cavo ormai iconico, il colore rosso, che richiama immediatamente OnePlus. Vi ricordo tra l'altro che con solo mezz'ora avrete carica per utilizzare il telefono per un giorno intero. Allora, questo è il contenuto della scatola, nei prossimi giorni torniamo ad affrontare ancora OnePlus 5 che devo dire a me piace molto in questa sua nuova versione. So che magari qualcuno di voi che ha già comprato il telefono quest'estate o magari nell'ultima settimana e con la versione 16 noni potrebbe rimanere deluso dalla scelta di cambiare immediatamente la forma e quindi magari di rendere obsoleto il vostro telefono, però insomma il passo in avanti è sicuramente importante. Prezzo che rimane uguale, 499-569 euro. Che cos'altro vi posso raccontare adesso? Ma diciamo per il momento nulla perché si tratta ancora di provare a fondo questo smartphone che ha un bellissimo impatto come look and feel. Questo smartphone tra l'altro sostituisce OnePlus 5 che non verrà più costruito. Quindi da qua in avanti solo 18 noni. Nei prossimi giorni ci ritroviamo per la recensione. Ciao da Mr. Gadget. Ciao.